cari amici buongiorno sono qui e meno male che sono qui perché meglio non aver partecipato alla salsa non voglio criticare nessuno ma meglio così in questo primo video dei due momentaneamenti poi vediamo più tardi pomeriggio serata se arriva qualche altro video parliamo di basket lega super coppia tempo di playoff non so se saranno gare di andate ritorni comunque vi dico che tra due giorni quindi oggi mercoledì venerdì avremo le due semifinali una è olimpia milano venezia alle ore 18 l'altra è sassari virtus bologna o le 20 e 45 non so se sentivo qualcuno che magari mi spiegava che mi parlava di bologna come se della final four non lo so comunque è stato fatto che una volta come vi dissi terminata la lega super coppa partirà il campionato no questo fine settimana perché in questo fine settimana finirà la super coppa il prossimo fine settimana poi per la coppa come c'è il mio slick si stanno facendo le sfide di qualificazione però credo le italiane sono tutte sistemate in tutte le competizioni già in base al giro quindi appuntamento abbiamo detto venerdì per le due semifinali che ripeto sono milano venezia alle 18 sassari virtus bologna alle 20 e 45 su euro sport in esclusiva bene grazie a tutti ci vediamo appena finisco di caricare questo video ci vediamo per il prossimo ciao